Fondamentalmente i social, quindi Facebook, Instagram e Figaro Shopping naturalmente. Abbiamo creato anche una mailing list con un bel po' di iscritti e addirittura segmentati anche per tipologia di passione e di approfondimenti a cui segnaliamo tutte le novità di prodotti, invitiamo nel negozio qua in via Cesare Correnti a fare la degustazione e quasi quotidianamente pubblichiamo qualche immagine di lavorazione e di prodotti nuovi.